Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È in programma sino a domenica a Senigallia il Mercato Europeo, evento organizzato da ConfCommercio, imprese per l'Italia, marche centrali e la propria sigla di riferimento del commercio su A Repubblica e Nazionale, FIVA ConfCommercio. Si tratta della sesta edizione della mostra Mercato, una vera e propria rassegna di prodotti alimentari non provenienti da tutta Europa all'insegna di gusti, sapori e tradizioni. È un'iniziativa che si è dimostrata versatile, perché abbiamo dovuto trasloccare dal centro storico, l'abbiamo portata sul lungomare, ma il risultato è davvero, sotto gli occhi di tutti, molto bello, ricco e saranno tre giorni pieni, intensi, come il mercato europeo ci ha mai abituato da anni ad essere. Questo è un mercato, nella definizione semplice, quindi semplicemente è un'iniziativa di piazza in cui si può trovare un po' di tutto, è questo che lo rende diverso dai mercati ordinari. Questo non è un mercato ordinario, come vedete ci sono articoli e prodotti ricercatissimi che non si trovano nelle comuni iniziative di piazza. La location scelta per l'edizione 2023, denominata con il sottotitolo L'Europa sul Velluto, è quella del lungomare Dante Lighieri, nei pressi della Rotonda Mare. L'amministrazione è vicina ai cittadini, alle attività economiche e il segnale di questo mercato europeo, questa mostra delle tradizioni un po' da tutti i vari paesi, in questa nuova location che è il lungomare di Senigallia, nel tratto principale, l'abbiamo proprio voluta per far vedere che Senigallia è presente. I mercati europei contribuiscono al processo di integrazione europea e le amministrazioni accolgono con entusiasmo queste manifestazioni perché rivitalizzano la città con persone che si incontrano per socializzare un vero indotto cittadino nel campo commerciale e turistico. Tra le tipicità marchigiane non potevano mancare le olive alla scolana. E noi le abbiamo portate, le olive alla scolana le abbiamo e abbiamo anche le varianti per le olive, abbiamo le olive al tartufo, mozzarella, cremini, cose che nella nostra zona è molto la preferita. Specialità di Salisburgo dall'Austria, cosa proponete? Ma noi ce l'hai tutte le cose fatte a mano, tipico austriaci, ce l'ho cannelli, il famoso cannelli, il famoso Würstel, buonissimo speck, pane freschissimo. Noi proponiamo i nostri prodotti tipici siciliani, dal cannolo siciliano all'arancino, poi abbiamo la pasta di mandorla, poi abbiamo anche dei vini licuorosi da abbinare ai nostri prodotti, come il cannolo e la mandorla. Che prodotti proponete dalla Bretagna? Abbiamo il biscotti francese fatti tutti con la pasta di burro salato. Come risponde la gente? Molto bene, tutti gli piacciono tanto il biscotti. I banchi di provenienza sono un centinaio, dei quali un'ottantina esteri e una ventina delle specificità regionali italiane. Sotto il profilo merciologico, un 60% di banchi ed alimentari si affianca ad un 30% del settore non alimentare, mentre il restante 10% è costituito da operatori che effettuano somministrazione.